2 confesso che la cosa mi riusciva spiacevole sebbene avessi deciso che avrei giocato tuttavia non mi sentivo affatto disposto a cominciare giocando per altri ciò arrivava addirittura a sconcertarmi un po tanto che entrai nelle sale da gioco profondamente indispettito fin dalla prima occhiata là dentro non mi piacque nulla non posso assolutamente soffrire il tono servile dei foglieton di tutto il mondo e soprattutto dei nostri giornali russi dove quasi ogni primavera i nostri articolisti parlano soprattutto di due cose in primo luogo della straordinaria magnificenza e del lusso delle sale da gioco delle città sulle rive del reno e in secondo luogo dei mucchi d'oro che secondo loro giacciono sui tavoli il fatto è che non li pagano nemmeno per questo raccontano queste cose per disinteressato servilismo in realtà in quelle squallide sale non c'è proprio nessun lusso e l'oro poi non soltanto non giace a mucchi sui tavoli ma è perfino difficile vederne un po naturalmente ogni tanto nel corso della stagione capita un tratto qualche strampalato un inglese o un asiatico magari un turco come l'estate scorsa e improvvisamente perde o vince una bella somma gli altri invece giocano con piccole puntate e in generale sul tavolo c'è pochissimo denaro dopo essere entrato nella sala da gioco era la prima volta in vita mia per un po' non riuscivo a decidermi a giocare per giunta c'era una gran ressa del resto se fossi stato solo penso che probabilmente me ne sarei andato senza neanche cominciare a giocare confesso che mi batteva il cuore e avevo perso il mio sangue freddo probabilmente sapevo e avevo già deciso da un pezzo che da roulettenburg non sarei partito tanto facilmente e che proprio lì si sarebbe immancabilmente prodotto un qualche mutamento radicale e definitivo nel mio destino sentivo che così doveva essere e così sarebbe stato per quanto possa sembrare ridicolo che io mi aspettassi tanto dalla roulette tuttavia mi sembra ancora più ridicola l'opinione corrente accettata da tutti che è sciocco e stupido aspettarsi qualcosa dal gioco perché mai il gioco dovrebbe essere qualcosa di peggio di qualsiasi altro modo di guadagnare del denaro per esempio del commercio è vero che c'è soltanto uno su cento che vince ma a me che me ne importava comunque avevo deciso fin dall'inizio di non cominciare nulla di serio per quella sera e di limitarmi a guardarmi intorno avevo stabilito che quella sera se fosse successo qualcosa ebbene sarebbe successo come per caso e senza rivestire una particolare importanza per giunta era indispensabile studiare bene il gioco già che nonostante le mille descrizioni del gioco della roulette che avevo sempre letto con tanta avidità non avevo capito assolutamente nulla della stessa organizzazione del gioco fino a quando non l'ho visto con i miei occhi anzitutto ogni cosa mi sembrava sporca voglio dire qualcosa di moralmente sporco e schifoso non intendo affatto parlare di tutti quei visi avidi e inquieti che a decine o addirittura a centinaia circondano le tavole da gioco io non vedo assolutamente nulla di sporco nel desiderio di vincere quanto più è possibile nel più breve tempo mi è sempre sembrato terribilmente sciocco il modo di pensare di quel moralista sicuro di sé e ben pasciuto che alla giustificazione di chi gli faceva osservare che si gioca puntando poco replicava tanto peggio perché anche il guadagno è piccolo come se l'avidità di un guadagno meschino non sia la stessa cosa che l'avidità di uno grosso in realtà è una questione di proporzioni ciò che per Rothschild è un'inezia per me può essere la ricchezza quanto poi alla vincita e al guadagno la gente non soltanto alla roulette ma in tutto il resto non fa altro che contendersi e vincersi l'un l'altro qualche cosa se poi il guadagno e il lucro in generale siano di per sé stessi schifosi questa è un'altra questione ma non ho intenzione di risolverla qui siccome io stesso ero ossessionato in sommo grado dal desiderio di vincere tutta questa avidità di guadagno questa sporca avidità di guadagno se volete al momento di entrare nella sala per me era qualcosa di familiare quasi d'innato la cosa più simpatica è quando non si fanno cerimonie e si agisce apertamente alla luce del sole e perché poi si dovrebbe ingannare se stessi questa è proprio l'occupazione più vuota e inutile la cosa più antipatica che saltava agli occhi alla prima occhiata in tutta quella marmaglia di giocatori di roulette era l'ostentato rispetto per l'occupazione a cui si dedicavano l'aspetto serio e perfino rispettabile che assumevano tutti coloro che circondavano i tavoli ecco perché qui si distingue nettamente il modo di giocare che viene definito di mauvais genre da quello che invece può dirsi anche a una persona per bene ci sono due modi di giocare uno da gentleman l'altro invece plebeo venale insomma il modo di giocare di una canaglia qualsiasi qui ciò viene severamente distinto ma in realtà come bassa e vile questa distinzione il gentleman per esempio può puntare cinque o dieci luigi d'oro qualche volta anche di più può puntare addirittura mille franchi se è molto ricco ma unicamente per il gioco in se stesso per il divertimento unicamente per togliersi il gusto di osservare il processo di vincere o perdere ma non deve assolutamente interessarsi alla propria vincita se vince egli può per esempio scoppiare a ridere forte o fare qualche osservazione a qualcuno dei presenti può anche puntare un'altra volta e magari raddoppiare ma unicamente e solamente per curiosità per osservare il gioco delle probabilità e non certo per il plebeo desiderio di vincere in una parola egli è tenuto a considerare tutte queste tavole da gioco di roulette o di trente e quarante unicamente come un oggetto di divertimento che gli sia stato messo a disposizione per suo piacere egli non deve nemmeno sospettare l'esistenza del desiderio di guadagno e dei tranelli su cui si fonda il banco sarebbe ancora meglio poi se a lui sembrasse per esempio che tutti gli altri giocatori tutta quella marmaglia che trema per un fiorino fossero altrettanti ricconi e gentleman proprio come lui che giocano unicamente per distrarsi e divertirsi questa completa ignoranza della realtà e questo ingenuo modo di considerare gli altri sarebbe naturalmente il più alto segno di aristocraticità ho visto molte mammine affettuose spingere verso il tavolo da gioco le loro figliole ingenue ed eleganti signorette di 15 16 anni consegnargli alcune monete d'oro e insegnar loro a giocare la signorina vinceva o perdeva ma continuava invariabilmente a sorridere e si allontanava dal tavolo con aria estremamente soddisfatta il nostro generale invece si è accostato al tavolo con aria grave e posata un lacchè si è precipitato a porgergli una sedia ma lui non se ne ha accorto è stato un pezzo a tirar fuori il borsellino e a trarne fuori 300 franchi in oro quindi ha puntato sul nero e ha vinto il generale non ha raccolto la vincita e l'ha lasciata dov'era è uscito di nuovo il nero e lui non ha raccolto la vincita neanche questa volta quando poi però è uscito il rosso lui ha perduto d'un colpo 1200 franchi il generale si è allontanato con un sorriso recitando fino in fondo la sua parte ma io sono convinto che dentro era esulcerato e se la puntata fosse stata del doppio o del tripolo lui certo non avrebbe retto la parte e avrebbe manifestato la sua agitazione del resto sotto i miei occhi un francese ha vinto e poi perduto 30.000 franchi conservando tutta la sua allegria e senza mostrare nessuna agitazione un autentico gentleman non deve mai agitarsi neppure se perdesse tutta la sua sostanza il denaro deve essere tanto al di sotto del gentleman che per lui non vale quasi la pena di preoccuparsene naturalmente poi è un tratto estremamente aristocratico non accorgersi minimamente della marmaglia né dell'ambiente circostante ma viceversa talora può essere non meno aristocratico un atteggiamento opposto e cioè invece osservare e guardare perfino con attenzione magari col monocolo tutta quella marmaglia ma ciò va fatto come se si considerasse tutta quella folla e quel sudiciume come una forma sui generis di divertimento come uno spettacolo organizzato appunto per distrarre il gentleman ci si può perfino confondere nella folla ma sempre con l'assoluta convinzione di essere soltanto un osservatore e di non appartenere a essa del resto non sta nemmeno bene osservare troppo fissamente nemmeno questo si addice a un vero gentleman già che comunque lo spettacolo non è degno di una troppa concentrata o prolungata attenzione in generale poi vi sono pochi spettacoli che siano degni di una prolungata attenzione da parte di un vero gentleman e invece a me personalmente sembrava che tutto questo fosse degnissimo della più attenta considerazione specialmente per chi non fosse capitato lì soltanto in veste di osservatore bensì si considerasse sinceramente e semplicemente parte della marmaglia per ciò che riguarda le mie più recondite convinzioni morali per esse naturalmente non c'è posto in queste mie considerazioni ma lasciamo pure che sia così parlo soltanto per sgravio di coscienza ma almeno questo voglio osservare che in tutti questi ultimi tempi per me era assolutamente intollerabile riferire tutti i miei pensieri e azioni a un qualsiasi criterio morale ero guidato da qualcosa di completamente diverso la marmaglia effettivamente giocava in modo estremamente sporco non sono neppure lontano dal pensare che qui al tavolo da gioco si verificassero non poche vere e proprie ruberie i croupiers che si trovano alle estremità del tavolo controllano le puntate effettuano i pagamenti e hanno moltissimo lavoro che canaglie pure quelli per la maggior parte sono francesi del resto io non svolgo qui queste osservazioni e questi rilievi per descrivere il gioco della roulette lo faccio invece per prenderci l'abitudine per sapere meglio come comportarmi in futuro ho osservato per esempio che al tavolo da gioco non c'è fenomeno più comune e corrente di quello di veder levarsi una mano estranea e prendersi quello che avete sacro santamente vinto comincia allora una discussione non di rado si levano delle grida e vi sfido a dimostrare a trovare dei testimoni che la puntata era effettivamente vostra all'inizio tutta quella faccenda era per me un vero e proprio rompicapo riuscivo soltanto a intuire e capire in qualche modo che si puntava sui numeri su pari e dispari e su colore per quella sera ho deciso così di arrischiare soltanto 100 fiorini dei denari affidatemi da polina alexandrovna il pensiero che mi accingevo a giocare non per me ma per altri mi indisponeva la sensazione che me ne derivava era estremamente spiacevole e così avevo voglia di liberarmene al più presto avevo l'impressione che cominciando a giocare per polina minavo la mia propria fortuna è forse possibile accostarsi al tavolo da gioco senza farsi immediatamente contagiare da superstiziosi presentimenti così ho cominciato tirando fuori cinque federici cioè 50 fiorini e puntandoli sul pari la ruota ha girato ed è uscito il 13 avevo perso pervaso da una sensazione quasi dolorosa unicamente per liberarmene in qualche modo e andarmene di lì ho puntato altri cinque federici sul rosso è uscito il rosso ho puntato di nuovo tutti e dieci i fiorini e di nuovo è uscito il rosso ho puntato di nuovo l'intera posta e ancora una volta è uscito il rosso ricevuti i miei 40 federici ne ho puntati 20 sulle 12 cifre di mezzo senza neppure sapere cosa ne sarebbe venuto fuori me ne hanno pagati tre volte tanti e così dai dieci federici di partenza me ne trovavo improvvisamente davanti 80 a un tratto mi sono sentito pervaso da una sensazione così strana e intollerabile che ho deciso di andarmene mi pareva che non avrei certo giocato a quel modo se avessi giocato per me tuttavia ho puntato ancora una volta tutti gli 80 federici sul pari questa volta è uscito il quattro mi hanno così versato altri 80 fiorini e io afferrato tutto il mucchio dei 160 me ne sono andato a cercare polina alexandrovna i nostri erano ancora a passeggio nel parco e così ho potuto vedere polina soltanto a cena quella volta il francese non c'era e così il generale si è sfogato con me tra l'altro ha ritenuto di nuovo necessario farmi osservare che egli non desiderava vedermi al tavolo da gioco secondo lui se io avessi perso molto ciò l'avrebbe gravemente compromesso ma anche se lei vincesse molto io ne sarei ugualmente compromesso ha aggiunto con aria significativa naturalmente io non ho il diritto di decidere delle sue azioni ma lei stesso converrà che e al suo solito non ha concluso la frase io ho risposto seccamente che avevo pochissimo denaro e di conseguenza non potevo mai perdere in misura notevole anche se mi fossi messo a giocare tornandomene in camera mia ho fatto a tempo a consegnare a polina la sua vincita e a dichiararle che la prossima volta non avrei più giocato per lei e perché ha chiesto lei allarmata perché voglio giocare per me ho risposto osservando la meravigliato e questo me l'impedisce dunque lei è sempre assolutamente convinto che la roulette è la sua unica via d'uscita e di salvezza ha chiesto lei in tono ironico ho risposto di sì con la massima serietà ho aggiunto che quanto la mia convinzione di dover assolutamente vincere ammettevo pure che potesse essere ridicola ma volevo soltanto che mi si lasciasse in pace polina alexandrovna insisteva sul fatto che io dovevo assolutamente accettare la metà della vincita di quel giorno e voleva darmi a ogni costo 80 federici offrendomi di continuare a giocare anche in futuro a quelle condizioni ma io ho rifiutato decisamente e definitivamente la spartizione e ho dichiarato che non potevo giocare per conto di altri non perché non lo desiderassi ma perché certamente avrei perduto e tuttavia io stessa per quanto ciò possa essere sciocco spero quasi soltanto nella roulette ha aggiunto lei facendosi pensierosa per questo lei deve assolutamente continuare a giocare facendo a metà con me e naturalmente lo farà detto ciò se ne è andata senza dare ascolto alle mie proteste 3 comunque per tutta la giornata di ieri non mi ha detto neppure una parola intorno al gioco e in generale ha evitato di parlare con me il suo abituale modo di fare con me non è cambiato una assoluta non curanza nel suo modo di trattarmi durante i nostri incontri e addirittura qualcosa di sprezzante e di ostile nell'atteggiamento in genere essa non cerca ha fatto di nascondere la sua repulsione per